benvenuti a meet and match digital show di linea pelle fair è un piacere avere qui con noi oggi roberto barina ciao robert ciao rietta e grazie dell'invito è un piacere che per me essere a milano oggi e soprattutto in questa nuova sede splendida che ci porta lanciati al futuro ma diremo anche con delle viscere molto profonde perché tutto quello che ho visto sottoterra è meraviglioso ricorda le nostre radici pur proiettandoci verso uno spazio nuovo grazie dell'invito grazie roberto in effetti siamo lp fashion studio in questa sede in effetti meravigliosa e stiamo presentando le proposte per la primavera estate 2022 roberto tu sei un esperto di calzature da donna di lusso raccontaci un po di te allora già la parola esperto ci fa riportare alla memoria i tempi passati in effetti sono più di 40 anni che sono nel settore della calzatura da 30 anni ho fatto l'esperienza lavorando come direttore artistico per un brand oggi mi trovo in un'altra posizione privilegiata quella di direttore generale di una grande industria che produce per molti noti marchi e questo fa sì che la mia esperienza nella calzatura sia segnata dal tempo questo vuol dire che il materiale è un elemento fondamentale per creare una bella calzatura diremo che il materiale è la pietra miliare la pietra d'angolo è il fondamento su cui si costruisce tutta l'architettura e tutto quello che è il nostro sogno prende vita attraverso il materiale non si può realizzare qualcosa di bello se il materiale non è bello cosa stai cercando in questo momento cosa ti piacerebbe trovare nei materiali per la calzatura ma diciamo intanto che la ricerca è sempre un'esperienza al di là di quello che uno ricerca almeno io personalmente non ho mai le idee troppo chiare di quello che sto cercando sono una cosa fondamentale sto cercando e la curiosità di trovare qualcosa di nuovo mi pone sempre in questo atteggiamento dell'essere mai soddisfatto di dover riguardare con occhi nuovi magari gli stessi materiali quest'anno se ti dicessi ho una voglia di colore ma non è soltanto il colore perché dopo l'inverno quando noi andiamo verso la primavera la luce le sensazioni stesse ci portano a cercare qualcosa di leggero di trasparenza qualcosa di di estivo no e nell'estate scoppia il colore però quest'anno credo che nella mia ricerca farò attenzione sicuramente alla sostenibilità alla innovazione dei materiali perché questo sarà il nuovo colore sarà l'attenzione con cui le concedie ci avranno preparato dei materiali dei pellami soprattutto che siano più compatibili possibile per il rispetto ambientale per l'utilizzo di tanini che ci permettono di avere dei materiali che non siano in contrasto con quello che la salute il benessere del consumatore per cui mi stai parlando dell'elemento della tecnologia come il nuovo colore che ovviamente si può dire che evolve il materiale di alta qualità io penso che ci siano dei fondamentali noi diciamo sempre siamo sempre alla ricerca di nuovi materiali ma in sostanza sono gli stessi materiali che si trovano in natura da milioni di anni che continuamente vanno a trasformarsi e questa è l'attenzione io credo lo scopo per cui uno ricerca qualcosa di nuovo non ricerca qualcosa di nuovo che non esisteva prima dal materiale che noi conosciamo anche perché noi siamo produttori di alta qualità di altissimo livello quindi il materiale è fondamentale nella ricerca del solito materiale del materiale tradizionale classico bello conosciuto c'è bisogno di questa innovazione e questa è la ricerca per me in assoluto la novità sta nel passo avanti che ha fatto il materiale che io già conoscevo ho un'altra domanda come è cambiato o come è cambiata la cliente di calzature di lusso secondo te in quest'ultimo tempo c'è stato un cambiamento epocale io penso non ti non ti stia riferendo solamente alla purtroppo al tragico periodo delle dell'epidemia perché sappiamo che è stata è una parentesi ancora in corso purtroppo non ancora chiusa che ha fatto sì che ci siano modificate tutti i nostri stili di vita per cui il fatto di rimanere molto a casa di non avere eventi all'esterno ci ha portato a condurre quella vita casalinga anche se trasformata per cui il relax come lo siamo abituati a intendere all'interno delle proprie mura è diventato uno stile di vita quindi lo stesso relax lo stessa tranquillità lo stesso stile un po charma ma casual così che possiamo avere all'interno delle nostre mura domestiche lo stiamo percependo così quasi come necessario come andare a fare la passeggiata quando a fare la spesa e per cui c'è il rischio io penso perché è quello che che sento anche su di me non solo per la mia cliente donna fashion donna molto avanti no nello stile perché ti viene voglia quasi di uscire con lo stesso abbigliamento che avevi in casa e di ritrovarti domani non solo al supermercato ma chissà all'evento in teatro in discoteca in un museo chi lo sa certamente c'è una grande voglia di relax è una voglia di distensione c'è una grande voglia di relax come possiamo conciliare questa distensione relax con il tacco elegante ma tu partivi prima dai materiali che sono fondamentali io credo che il relax lo troviamo nel materiale intanto prima che nella struttura perché è il materiale che fa la calzatura e quindi al tatto una nappa un agnello un bel vitello morbido un bottalato è questo per me già relax solo al tatto io sono abituato a riconoscere i materiali un po dal tatto quasi chiudo gli occhi quando tocco le pelli perché già l'esperienza del tatto mi dice dove mi porterà e quindi io penso che da una parte avremo questa spinta alla morbidezza relax alla leggerezza partendo dal materiale poi sul tacco sicuramente ci saranno delle strutture anche perché credo che usciti da questa pandemia la donna avrà anche voglia ancora di ritornare a essere femminile di ritrovarsi magari su un tacco e magari non sarà più lo stiletto non sarà più il tacco a spillo ma sarà un tacco che dia una certa comodità quindi una struttura comoda con un materiale molto morbido potrà far sì che ritroviamo le nostre donne ancora sui tacchi ma con morbidezza grazie roberto perché a dirti la verità da donna non vediamo l'ora di indossare ancora un tacco e noi come uomini amiamo vedere le nostre donne anche su un po di tacco che certamente migliora il portamento anche se non è il tacco che fa la donna ma il tacco aiuta ad essere un po più femminile grazie grazie roberto perché è stato veramente appassionante ascoltarti grazie a te orietta grazie del levito